La mia è soprattutto una ricerca visiva, come i giganti a Palazzo Tè, come a Fontanellato, piuttosto a Teone, corpi, si snodano le braghe, tengo, perché il contesto le necesse. Ma è una ricerca visiva, la mia piuttosto che una ricerca di testo. Detesto il testo, soprattutto quando è scritto, prescritto, prefatto come i giganti di Palazzo Tè, Roteo, piuttosto qualche sileno in un quadro di Tiziano. A seguito del bacchico corteggio mi muovo come sileno e dunque metto piuttosto delle foglie, metto piuttosto delle chiusure, perché il contesto non porta ad avere questo contesto. Una conformazione nature, tornerebbe sensato farsi statuari o pittorici tipo rinascimento. Quindi il contesto, come piuttosto farsi contemporaneo, almeno delle avanguardie del Novecento, se si ne fa in pip, diceva Magritte, questo non è il mio corpo. Ovviamente è un'icona in movimento, io non sono affatto questo, anche se aspirerei ad essere soltanto virtuale, invece purtroppo anche poco virtuoso resto. Quindi, come a Palazzo Tè, i giganti precipitano giù, così io mi precipito sempre a farmi immagine che non sono io questo, come ho già detto. Se si ne fa un corpo, un corpo, un corpo, un corpo, non è il mio corpo. Questa è semplicemente simply my imaging, ma neppure una registrazione, una ricerca, nient'altro resta che questo, un mouse, qualcosa che non ha niente a che fare coi topi e neppure coi gatti. Quindi questo e nient'altro resta, quindi non potrei che essere così fatto per dare un senso visivo alla mia ricerca, ma questa è solo non un corpo, quanto piuttosto un'immagine. Qui sembra un santo vecchio, non so se domenico o piuttosto quello latore di con a sé accanto, come accadeva. Vedi questo capello che cade, che sembra piuttosto evocare la Romanità o la metà dell'Ottocento, quanto visto, quanta iconologia, iconografia in tutto questo, che sembra accadere così semplicemente a caso. Oh, o caso cadere delle mie possibilità d'esibizione, giacché niente esibibile, perché questa solo non è altro che immagine esigita, esigetica dell'immagine falsa di sé, di qualcosa che evoca e non è come nella parola, ed è per questo che io resto alla scuola primaria. Mi interessa primariamente il passaggio dal flatus vocis al testo scritto, come agisce, reagisce, e così pure dal flato degli occhi, fatto, mi sfatto, mi sfatto testo video, mi sfa, mi disfa in un percorso claudico, e io pure mi sento claudicante, come un'atlante che non ce la fa più a reggere sulla schiena tutte le sue memorie, e le deposita qui a contenere il proprio così distanziato, sofferto, vissuto dolente, addolorato, addolorato, immaginario, perché pure la memoria deve avere a sé accanto la fiducia che sia stata vissuta, perché potremmo pure disfarci di questa fede nell'accaduto e ipotizzare tutto in un vacuum claudico, in un nubiloso precipitare di giganti completamente di sé e degli altri ignoranti sans les mutants.